La parola al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Presidente, a lei saluti, grazie e benvenuto. È chiaro che essere pugliesi da un po' di tempo a questa parte è diventato un modo anche per presentare se stessi. Abbiamo fatto un lavoro che è durato tanto, è costata tanta fatica per uscire dai luoghi comuni sul mezzogiorno per combattere la criminalità organizzata per prendere le nostre città a partire da Bari che erano città con una pessima nomea e di cambiargli il senso. Quello che la Puglia ha fatto negli ultimi 15 anni è stato veloce, molto chiaro ha coinvolto tutti, a prescindere dagli schieramenti politici ed è stata una prova di capacità della Regione di fare le nozze con i fichi secchi ma di farle bene perché noi rimaniamo una Regione con una profonda differenza diciamo così infrastrutturale di capitale umano. Noi siamo costretti a fare nella giustizia, nei comuni, nelle regioni, nella sanità, nella scuola siamo costretti a giocare rispetto al capitale umano di altre regioni 7 contro 11 ma alla fine qualche partita riusciamo a vincerla e come vedete siamo la prima Regione italiana nella effettuazione dei vaccini tolte dalla Valle d'Aosta e la provincia di Bolzano vuol dire che abbiamo un'efficienza del sistema sanitario e di prevenzione che in relazione ovviamente alle dosi che ci stanno consegnando è straordinaria e di questi record la Puglia ne ha tantissimi siamo la Regione che investe di più e meglio i fondi europei siamo la Regione che ha tenuto fino a prima del Covid dal punto di vista economico con esportazione in crescita occupazione in crescita con un interesse al brand molto rilevante e Cassa Depositi e Prestiti oggi quindi fa certamente una cosa che ci porta a essere grati di questa attenzione e di questo affetto perché curare da vicino la Puglia è una cosa che ha anche a che fare con la categoria del sentimento non solo della ragionevolezza però c'è anche una grande intelligenza perché il rating della Puglia è superiore a quello dell'Italia non ci possono classificare perché questo non è nelle regole delle agenzie di rating però prestare dei soldi alle pubbliche amministrazioni pugliesi in linea di principio con qualche caduta relativa soprattutto al passato è sempre stata un'attività remunerativa per chiunque avesse voluto misurarsi con questo compito e più in generale investire in questa regione come facciamo attraendo investimenti da tutto il mondo è una di quelle ipotesi che può diciamo remunerare chiunque abbia questo scopo in maniera interessante senza ovviamente promettere la luna perché la regione Puglia non è in grado di moltiplicare i soldi come se si trattasse di una catena di Sant'Antonio o di una chissà quale speculazione finanziaria però la solidità, la serietà dei nostri argomenti la stima che ormai ci siamo guadagnati ovunque qualche mese fa, in realtà è più di un anno eravamo ad Asso Lombarda con tutto il gota della finanza e della imprenditoria Lombarda e abbiamo presentato una decina di imprese che hanno Lombarda e che hanno investito in Puglia e che hanno parlato della nostra agenzia per appunto la spesa dei fondi europei come dell'agenzia più efficiente si chiama Puglia Sviluppo la più efficiente che esista in Italia mettendola a confronto con l'analoga agenzia della regione Lombardia insomma questo Covid ovviamente non ci voleva non ci voleva per tutta l'Italia, per tutto il mondo ma ci dispiace in modo particolare che questa corsa positiva della Puglia in questo momento abbia questo ulteriore ostacolo ma non ci fermeremo io sono certo che con l'aiuto della Repubblica con l'aiuto di Cassa Depositi e Prestiti del sistema delle imprese dei comuni che ovviamente beneficeranno in modo particolare di questa iniziativa si potrà davvero riprendere al più presto la corsa immaginate che questa estate quando abbiamo potuto ricominciare a lavorare il PIL della Puglia tendenziale era quasi al 20% abbiamo avuto una ripresa violentissima speriamo di, diciamo così, addomesticare il virus e di poter ricominciare a lavorare come sappiamo fare grazie ancora a tutti se è finito il mio, diciamo, ruolo vi chiedo scusa ma la tecnologia anziché risparmiarci la fatica se la triplica perché ho allato altri due computer che mi aspettano vi chiedo scusa perché avrei voluto godermi la giornata con un po' più di pigrizia e di compagnia da parte vostra vi chiedo veramente scusa le racconteremo grazie le racconteremo come andrà grazie, grazie Presidente